L'associazione Donne Protagonista Per questo è partita da Altamura una raccolta di firme per sostenere l'apertura di un centro antiviolenza in grado di offrire alle vittime assistenza legale e psicologica gratuita. La nostra idea è quella di creare un centro antiviolenza di accoglienza dove le donne possono rivolgersi per ottenere consulenze gratuitamente, parliamo della consulenza legale, quella dello psicologo, soprattutto in un periodo in cui purtroppo centri tipo questi vengono chiusi. E' stato chiuso da poco il centro desiderio perché a Bari non viene più finanziato e presenteremo poi la proposta per ottenere un finanziamento e attivarlo in maniera seria e continua.